La paura del terrorismo cambia le abitudini e costringe anche nel territorio della Bat a nuove misure che contemplino barriere o protezioni, soprattutto negli eventi per le strade o che richiamano molta partecipazione. È il caso per esempio dei mercati settimanali, una delle tradizioni commerciali più importanti sul territorio pugliese e particolarmente nella sesta provincia, con città molto grandi ed appuntamenti particolarmente estesi. Dopo le norme più stringenti giunte dal Ministero dell'Interno e recepite da Prefetture e Questure Comuni, ci si prepara dunque a difendere i mercati con le ormai famose barriere antitir. Tra i sostenitori di maggiore sicurezza all'interno vi è stata anche una levata di scudi dell'associazione di categoria Un'Impresa Bat. Anche se nel mercato forse più importante della sesta provincia, cioè quello del lunedì di Andria, con oltre 500 commercianti, le barriere già annunciate per oggi non ci sono. L'area interessata è quella dell'intera villa comunale, sino a superare lo stadio degli Olivi passando per via Bruno Buozzi, un'area molto grande che ha bisogno di un'attenzione particolare per predisporre al meglio le stesse barriere. Dal comune di Andria ci comunicano che dovrebbe essere tutto pronto per lunedì prossimo, anche se in altre città, vedi Barletta sabato scorso, le prime barriere sono state già posizionate in via Rossini. Ora si attendono i mercati del martedì di Trania e Biceglie, mercati anch'essi molto grandi e piuttosto pericolosi in termini di sicurezza, come ha più volte ribadito un'impresa Sabat. In realtà tuttavia la paura del terrorismo non ha impedito alle migliaia di cittadini presenti anche stamane ad Andria di riversarsi nello storico mercato del lunedì. Una paura che non può e non deve naturalmente cambiare abitudine o d'appuntamenti, seppur con un occhio maggiore verso il controllo e la sicurezza.